Scende in campo Aurelio De Laurentiis, al suo fianco compare Pierpaolo Marino, uno dei protagonisti del primo scudetto a Napoli. Nasce Napoli Soccer. Secondo me inizia una nuova era, inizia una nuova società, bisogna costruire una nuova società prima che costruire la squadra e quindi noi opereremo in modo tale che poi questa società possa ricreare un'immagine per il Napoli nel tempo e con il tempo forte e che dia soddisfazione e divertimento. Aurelio De Laurentiis nasce a Roma nel 1949, nel 1974 fonda con il padre Luigi la Film Mauro e in 30 anni produce oltre 70 film, il primo successo un borghese piccolo piccolo. Per acquistare il titolo sportivo del Napoli versa 31 milioni di euro. Il Napoli è forte, ha un cuore straordinario, ha una sportività formidabile, ha dei campioni in erba che daranno il massimo nel futuro ma bisogna dargli tempo, bisogna lasciarlo crescere, bisogna innaffiare questa pianta affinché cresca e si rafforzi.